Ausini torna a Ioè Puntare. Dopo lo stoppo del 2020 dovuto alla pandemia Covid, la manifestazione organizzata dalla Proloquo e del Comune, in collaborazione con la Camera di Commercio di Sassari, vive la sua diciannovesima edizione, con un articolato programma di tre giorni fino a sabato, attraverso laboratori tematici e degustazioni, alla scoperta dei piccoli produttori e delle tradizioni folcloristiche e culturali del Paese. Ripartiamo un po' da dove ci siamo fermati, per ovvie ragioni, dovute alla pandemia e con, sì, possiamo dire, un atto di coraggio, ripartiamo per non perdere questa manifestazione, per riprendere la nostra tradizione di andare a degustare il pieno luogo nelle cantine. Lo faremo più o meno alla stessa maniera, quindi con l'amministrazione che naturalmente ha dato una mano, ma poi lo sforzo importante della Proloquo, l'impegno dei cantinieri che naturalmente offrono la materia prima e il coordinamento del Coro di Usini sotto l'aspetto culturale. Chiudiamo con AIO a impuntare, una importante manifestazione giunta alla diciannovesima edizione, peraltro i centri che rispettano la stagione turistica, quindi per questo motivo vale anche doppio. Salute Tribu è un contenitore importante sulla quale la Camera punterà anche nel 2022, con l'aiuto dell'assessorato al turismo della regione Sardegna, magari anche ampliando nei confini e riuscendo a soddisfare tutte le richieste che sono arrivate, che per motivi di budget, ahimè, sono rimaste in alcuni casi in evase. Grazie.